Bentornato sul canale YouTube di Semprefarmacia.it. Se le tue dita esposte al freddo diventano pallide per poi passare al rosso acceso, potresti soffrire della sindrome di Renu. Questo fenomeno nella maggior parte dei casi non è grave e si controlla con delle semplici accortezze. Qualche volta però bisogna indagare perché potrebbe essere la manifestazione di patologie più gravi, come alcune malattie autoimmuni. In questo video capiamo cos'è la sindrome di Renu, quali sono i sintomi e le cause, quali sono gli esami per approfondire e come si cura. Se il video ti piace, metti like e ricordati di iscriverti al canale. La sindrome o fenomeno di Renu, secondo le stime, colpisce circa il 3-5% della popolazione, in prevalenza donne e di giovane età. Consiste in una serie di alterazioni della circolazione, osservate per la prima volta verso la fine dell'Ottocento da un medico francese, Maurice Renu. Questo fenomeno colpisce le estremità del corpo, quindi mani e piedi, ma può arrivare a colpire anche il volto, naso e orecchie. Le alterazioni si susseguono secondo uno schema che permette di individuare diverse fasi della sindrome caratterizzate da sintomi peculiari. In seguito a stimoli come il freddo o forti stress emotivi, i vasi arteriosi periferici che portano ossigeno ai tessuti si restringono. In questo modo il passaggio di sangue è interrotto e le parti colpite diventano improvvisamente molto pallide. Nel frattempo, nei vasi venosi, il sangue che ristagna cede quella piccola quantità di ossigeno che ancora contiene, diventando ancora più scuro e conferendo quindi alle parti colpite un colore bluastro. In un tempo che generalmente non supera i 15-20 minuti, lo spasmo arterioso cessa e finalmente il sangue può tornare nei tessuti, causando però un improvviso rossore e gonfiore. Durante il fenomeno di Renau, oltre alle variazioni di colore, possono manifestarsi sintomi che vanno dai più lievi come formicolio e intorpidimento, fino ai più intensi come dolore e bruciore, soprattutto nella fase di iperemia o ritorno della circolazione sanguigna. Va specificato però che non in tutti i pazienti sintomi sono uguali. Nei casi lievi possono manifestarsi dei semplici fastidi e possono non presentarsi tutte le fasi. In altri casi invece, gli attacchi sono così frequenti e intensi che possono arrivare a formarsi delle ulcere o addirittura si può andare incontro a morte dei tessuti. Ma cosa provoca questi episodi? Vediamoli insieme. In genere il fenomeno di Renau si manifesta in seguito a stress emotivi o all'esposizione al freddo. Possono essere sufficienti, temperature inferiore ai 15 gradi o semplicemente lavare le mani con acqua fredda. Chiaramente questi sono fattori scatenanti, non la reale causa della sindrome di Renau che ancora non è del tutto chiarita. Sicuramente però è coinvolta l'esagerata risposta a questi stimoli da parte di alcuni recettori, detti alfa 2 adrenergici, che controllano la contrazione dei vasi sanguigni. Questa alterazione può essere correlata o meno ad altre patologie, permettendoci di distinguere la sindrome di Renau in due tipologie. Nel Renau primario la risposta esagerata non è collegata ad altre patologie, è di tipo funzionale. Questa è la forma che si manifesta più frequentemente e per fortuna in modo meno grave. Nel Renau secondario il fenomeno si presenta come sintomo di altre patologie, che generalmente sono a carattere autoimmunitario e che danneggiano arterie e nervi. Tra le patologie che più frequentemente si manifestano col fenomeno di Renau, ricordiamo la sclerodermia e il lupus eritematoso sistemico. In ogni caso esistono dei fattori che predispongono alla sindrome di Renau. Tra quelli individuati ricordiamo il fumo di sigaretta, che come è noto provoca disturbi della circolazione, il compie reazioni ripetitive che sottopongano a vibrazioni, l'uso di alcuni farmaci come i beta bloccanti, che sono degli antipertensivi, alcuni chemioterapici e la pillola anticoncezionale, e infine l'esposizione a sostanze chimiche tossiche come il cloruro di vinile in ambito lavorativo. In genere il medico valuta clinicamente il paziente in base ad età, gravità e frequenza degli attacchi e presenza o meno delle lesioni. Nei casi più lievi non risulta necessario indagare ulteriormente, ma se il medico lo ritiene opportuno per escludere altre patologie più gravi, può procedere con ulteriori esami, che generalmente sono analisi del sangue specifiche e capillaroscopia ungueale. Quest'ultimo esame permette di studiare i vasi sanguigni della lunetta alla base delle unghie. Se ci sono anomalie potrebbe trattarsi di sindrome di Renault secondaria. Le cure ovviamente richiedono strategie diverse in base al fatto che si tratti di Renault primario o secondario. Nel Renault primario generalmente si tende ad evitare i fattori scatenanti, quindi freddo e stress emotivo, ma anche quelli predisponenti, quindi ad esempio fumo e farmaci. Nei casi più importanti si può ricorrere ad alcuni farmaci vasodilatatori, come la prazosina, un'alfa bloccante. Invece nel caso del Renault secondario si deve necessariamente andare ad agire su quella che è la patologia che scatena il problema. Abbiamo visto cos'è il fenomeno di Renault e in quali casi è importante indagare. E tu ne hai mai sofferto? Se hai domande o vuoi lasciare la tua testimonianza, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di Semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.